13 19 non chiedetemi che significa questo numero perché oggi parliamo di poliamore cos'è il poliamore è qualcosa che deriva da dalla poligamia e cos'è la poligamia più o meno il contrario della monogamia non è semplice da spiegare perché viviamo in una società dove determinate strutture sono sono insite e esistono da così tanto tempo che sono considerate scontate sono considerate l'unica cosa possibile quindi così come ci troviamo in una società patriarcale così come ci troviamo in una società capitalista ci troviamo in una società monogamica dove il matrimonio è vista come unione tra due persone ma chi ha detto che questa possa essere l'unica soluzione possibile se in natura invece vediamo che oltre alla poligamia oltre alla monogamia esiste anche la poligamia e esiste anche la poliginia e anche la poliandria quindi ci sono situazioni in cui c'è un solo maschio e una sola femmina situazioni in cui c'è una sola femmina con più maschi situazioni in cui c'è un solo maschio con più femmine e situazioni in cui ci sono più maschi con più femmine appunto la poligamia che non è contemplata non è possibile sposarsi in più persone basta parlarne e io sono sicuro che la maggior parte delle persone che stanno ascoltando questo filmato già si saranno fatte idee strane su di me e su quello che dico però se vogliamo veramente rispettare le differenze vivere in un mondo dove le differenze anche sessuali nonché sicuramente affettive tipo ecco qui l'amore mio c'è l'amore mio è nicotino chi mi conosce lo sa comunque dicevamo le differenze sessuali vanno rispettate così come è giusto che si possa essere etero piuttosto che gay piuttosto che trans piuttosto che bisex piuttosto che tutte le varie etichettine che adesso vanno più o meno di moda deve essere giusto anche poter permettere che ognuno esprima l'amore l'affettività il sesso nei modi che preferisce quindi senza voler fare una polemica senza voler entrare troppo nell'argomento per tutti quelli interessati tutti quelli interessati possono da soli andare a cercare su internet cosa significa poliamore cosa significa poligamia ma la mia domanda semplicemente è dobbiamo per forza di cose essere tutti uguali dobbiamo per forza di cose vedere tutti le stesse cose alla stessa maniera io non credo che si debba o si possa amare una sola persona io credo che si possano amare più persone contemporaneamente credo che la gelosia è un sentimento di protezione verso un qualcosa o un qualcuno a cui noi teniamo e che abbiamo paura che possa subire dei danni e quindi credo che sia giusto essere gelosi della propria ragazza quando questa rischia di essere violentata rischia di essere picchiata ma non credo che abbia nessun senso essere gelosi se la propria ragazza ha voglia di libertà l'amore è libertà l'amore non è possessività quindi con questo piccolo filmato voglio da una parte presentarmi senza dover mettere una cavolo di foto con un cavolo di numeretto su su un gruppo di di voli amorosi che purtroppo ce ne sono ce ne sono veramente pochi poi qui da noi in italia magari con le ingerenze del vaticano e della chiesa che te lo dico a fare dall'altra parte vorrei che tutti quelli che non capiscono di cosa parlo possano avere uno spunto di riflessione e conoscere qualcosa di nuovo e quindi la domanda è avere una ragazza avere un ragazzo perché fermarsi solamente a uno se l'amore è universale c'è un limite all'amore c'era max weber se non sbaglio che quando parlava di potere diceva che che ha sbagliato dire che all'aumentare del potere di uno diminuisce il potere dell'altro perché il potere non è una cosa misurabile non è una cosa limitata non è un valore limitato e allora alla mia domanda riguarda l'amore l'amore è limitato l'amore è misurabile io credo di no quindi vi lascio questi spunti di riflessione e vi passo a presentare il più grande amore della mia vita nicotino che adesso che per un biscottino ci farà un bellissimo show e poi vi salutiamo stefano e nicotino e ce ne andiamo a dormire mico fai vede quanto sei bravo allora questo è il biscottino no seduto ti sei messo bravo vai dammi una zampa bravo dammi l'altra zampa l'altra zampa quell'altra lì l'altra zampa allora l'altra zampa bravissimo amore adesso vai a cucciaggiù vai a cucciaggiù adesso canta bravo adesso canta piano canta piano canta piano bravo adesso canta acuto canta acuto acutino bravissimo adesso stai zitto stai zitto bravissimo fermo stai zitto e fermo zitto e fermo adesso prendi i fazzoletti bravo dall'imana papa no in mano a papa bravissimo sei proprio un bravo cane tieni ti sei meritato il biscottino avete visto quanto amore ci può stare dentro un solo cane ciao belli